Da amante profondo di questo sport non si può non partire da quella che è stata la decisione, per quanto mi riguarda, giustissima, correttissima, di assegnare il pallone d'oro dell'ultima stagione a Karim The Dream Benzema. Un giocatore incredibile, un giocatore che da anni mi porto dietro nella mia classifica personale dei più amati in assoluto, che purtroppo per forza di cose non hanno mai vestito la maglia della Juventus, devo dire la verità, l'ultima Champions League vinta dal Real Madrid mi ha emozionato. Ho seguito nel dettaglio le partite, le prestazioni dell'anno scorso della squadra nata da Carlo Ancelotti e Benzema da trascinatore, leader tecnico e di gruppo mi ha fatto un'impressione incredibile. Ci pensavo l'altro giorno, immaginatevi di essere una nazionale che vince un mondiale scegliendo di lasciare a casa uno come Karim Benzema. Stiamo appunto parlando della Francia che invece quest'anno per il mondiale in Qatar, per forza di cose, andrà a convocare il numero 9 dei Galacticos e immagino che si sarà una delle candidate ancora una volta più importanti per andare a portare a casa il trofeo più importante, scusate la ripetizione, ma che altro puoi dire quando parli di mondiale e di questa Francia con anche Benzema, più importante della storia del calcio. Quindi oggi è ovvio che per forza di cose una delle favorite, mi viene da dire la Francia, poi ce ne sono altre, l'Argentina, insomma, del mondiale poi parleremo più avanti, però pallone di oro a Benzema, super super meritato. Ieri ragazzi io vi parlavo, tra le altre cose, dei rientri di Pogba e di Federico Chiesa, senza dimenticare quello di Di Maria, anche se come vi dicevo ieri Di Maria è un po' più indietro per via di questo problema muscolare, invece Chiesa e Pogba dovrebbero rientrare un pelo prima. E' ovvio che non fa in tempo a parlare di una cosa bella e che ne accade una brutta, perché? Perché ieri sera, poi ieri pomeriggio abbiamo avuto la conferma per quanto riguarda l'infortunio anche di Bremer, una ventina di giorni stop e non si fa in tempo ad esultare per un recupero che ecco un nuovo infortunio e questa cosa va sistemata, questa cosa è un problema a tutti gli effetti, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa da mettere a posto. Bisogna studiarsela bene, perché purtroppo da qualche anno a questa parte la Juventus volentino lenti, compra uno, compra l'altro, compra l'altro ancora e poi alla fine questi giocatori continuano a farsi male. E questo è un problema, un problema grosso, quindi la Juve dovrà starci attenta un po' di più, dovrà prestare più attenzione perché sennò anche gli investimenti vengono devalorizzati, al di là di quello che accade sul campo anche proprio dal punto di vista sanitario, perché poi il calciatore si fa una nomea di un certo tipo, il mercato cala e quindi guadagni meno soldi in caso di cessione, anche proprio dal punto di vista fisico degli allenamenti, ricordiamoci tutti come De Ligt poi non si è stato subito impiegato dal Bayern Monaco perché aveva bisogno di una preparazione a parte diversa, più importante e con più intensità rispetto a quella che aveva fatto in Italia. E proprio da questa cosa qua vorrei ripartire per agganciarmi anche a un discorso di Milik, perché ieri vi parlavo appunto dei rientri di alcuni giocatori e vi dicevo però adesso la Juventus deve cercare di capire come mettersi. Perché Milik? Perché Milik è uno dei calciatori che non ha fatto la preparazione con la Juventus e che si è dimostrato tra i più in forma in assoluto per quanto riguarda i primi due mesi della stagione 2022-2023. Nelle ultime due partite Milik non è nemmeno partito titolare, ha avuto un affaticamento, lo ricorderete a tutti, è stato in panchina in una delle partite di campionato e poi è partito in panchina pure col Maccabi Haifa, è subentrato per via dell'infortunio di Maria ed è stato in panchina dal primo minuto anche col Toro. Infatti quando ho visto la formazione ufficiale e ho visto Milik in panca mi sono detto in che senso? E quindi io vorrei cercare di ragionare nel complessivo per mettere giù una Juventus quanto più migliore possibile ma non voglio farvelo graficamente, voglio farvelo soltanto per ragionamento, per parlato e poi sarete voi qui sotto nei commenti a dirmi quella che secondo voi è la migliore Juventus in assoluto. Ma prima di tutto vi ricordo lo sponsor di questo canale e quindi Numero 10, applicazione con la quale collaboro, con la quale lavoro, infatti oggi uscirà un articolo, vi metterò subito alla scrittura di un articolo che troverete disponibile sul Numero 10. Numero 10 vi darà anche la possibilità di vincere una maglia da calcio alla vostra squadra del cuore semplicemente scaricando l'applicazione e attenzione perché venerdì sera il post partita di Juventus-Empoli uscirà proprio sul Numero 10. Tra l'altro Juventus-Empoli che mi porta alla luce brutti ricordi per via della partita dello scorso anno dove perdiamo in casa 1-0, la mia prima partita allo stadio post-Covid dato che aveva appena riaperto un po' tutto non è andata decisamente come volevo. Dicevamo Milik, giocatore di raccordo, comunque giocatore molto tecnico, attaccante intelligente, attaccante con una discreta personalità e veramente con una tecnica molto molto elevata nonostante la stazza si trova molto bene secondo me con Vlaovic sulla carta a livello tecnico perché Vlaovic è un attaccante molto bravo ad attaccare a profondità poi il fatto che non gli arrivino abbastanza palloni e che fino adesso abbia segnato tanti gol ma due su punizioni uno su rigore quindi poco su azione ci dà ci dà un indicatore di come in questo momento Vlaovic non sia ancora sfruttato al 100% e invece Milik è molto bravo a venire incontro, a venire verso il centrocampo a gestire quel pallone nel migliore dei modi Vlaovic è più grezzo, Milik è più tecnico, Vlaovic è più golador Milik se vogliamo è anche più fantasista, tra virgolette, quel giocatore di raccordo che in tanti anni in passato ha fatto di bala o come col Maccabi in casa ha fatto di Maria quindi già qua immaginarsi Di Maria, Milik e Vlaovic insieme capisci che è un po' complicato a meno che tu non decidi di giocare con un 4-2-3-1 molto offensivo con Di Maria alla sinistra, Vlaovic riferimento offensivo Milik sulla tre quarti e un altro esterno che può essere Kostic oppure Chiesa quando rientrerà però immaginarmi un 4-2-3-1 con Di Maria, Chiesa, Milik e Vlaovic secondo me è molto molto pesante e già qua scatta un primo allarme un altro giocatore secondo me molto bravo a giocare sulla tre quarti per quanto riguarda la Juventus è Fabio Miretti, anche lui scomparso dai radar Miretti che ha giocato le prime partite dell'anno tra l'altro c'è stato un momento in cui andiamo a giocare a Parigi col PSG giochiamo con un 3-4-1-2 con Miretti tre quartista dietro a Milik e Vlaovic devo dire la verità da non amante della difesa 3 da non amante della difesa 3 per questa specifica Juve quella era una soluzione che mi era piaciuta veramente tanto non tanto per la partita in sé perché è stata abbastanza senso unico c'è stata una buona reazione nel secondo tempo Miretti non ha fatto la partita migliore del mondo anzi esce a fine primo tempo entra McKennie che poi farà gol però come idea come impronta dato che ogni giocatore si trova a bini o male nella sua posizione ideale poi secondo me affrontare il PSG con la difesa 3 non è la scelta migliore però sulla carta ragionando su altre partite diverse da quelle magari con un grado di difficoltà anche minore beh quella è una soluzione che mi sento di dire si potrà riproporre in futuro però in questo momento Miretti sembra stato un po' accantonato e voglio ripartire anche dalle parole di Massimiliano Allegri in quella famosa intervista a Mario Sconcerti dove dice c'eravamo immaginati una Juventus di partenza con il 4-3-3 con Chiesa di Maria sugli esterni Vlaovic riferimento offensivo e a centrocampo c'eravamo immaginati di giocare con Paredes in cabina di regia e mezziali Pogba e Rabiot con Locatelli primo a subentrare durante la gara il che significa che la Juventus aveva la volontà anche di staccarsi tra virgolette da quello che è il 4-4-2 storto che abbiamo visto fino adesso anche significa dare una fase difensiva differente rispetto a quelle che abbiamo visto nella maggior parte delle partite disputate fino adesso che secondo me è un chiodo che va sempre martellato a dovere perché tante volte si parla di come sono schierati in campo i giocatori ma non di come difendono i giocatori in una fase di partita e da qui secondo me si apre un mondo di discussione che è sempre molto interessante però che cosa significa? Rabiot Pogba e Paredes quindi significa che l'idea era quella di lasciare Chiese e Vlaovic più su far scendere Di Maria sulla destra e allargar Rabiot sulla sinistra quindi comunque 4-4-2 storto o anche un'idea differente di Juventus in fase di non possesso con una riaggressione quindi una fase di transizione più offensiva rispetto a quella difensiva che abbiamo visto nella passata stagione è nei due mesi di questa qui perché da qui cambia tutto dall'approccio, dall'atteggiamento, dai compiti da quello che chiede di fare ai calciatori e su Pogba si apre un altro mondo perché Paul, dato che fino adesso abbiamo ragionato su tre centrocampisti è un giocatore molto bravo si è utilizzato in un contesto con altri due centrocampisti al suo fianco poi che Pogba abbia fatto quella mezzala sinistra del centrocampo storto in passato con Allegri, certo, è un dato di fatto era anche un'altra Juve era anche un altro Pogba con un'altra gamba un'altra cartella clinica un altro palmarès un'altra forse anche mentalità però Pogba non me lo immagino più largo a sinistra come gli abbiamo visto fare in quella stagione in cui abbiamo vinto lo scudetto con il gol di Zaza all'ottantottesimo per intenderci dato che lì Pogba l'abbiamo visto la sua ultima stagione a Juventus quella con il 10 sulle spalle faccio un po' fatica a immaginarmi lì Pogba così come faccio un po' fatica a immaginarmi Pogba in questo momento in un centrocampo a due che ne so Paredes, Pogba Locatelli, Pogba Pogba, Rabiot davvero faccio fatica molta fatica perché Pogba non è un giocatore adatto a giocare una mediana 2 sarebbe abbastanza limitato però iniziamo a ragionare cioè Pogba Paredes Rabiot Locatelli Miretti senza dimenticarci Meccenni e Fagioli cioè vuol dire che comunque la Juventus fino adesso che tanti hanno anche cercato di sottovalutare a livello di nomi di abbondanza nei reparti ne ha e ne ha tante quando recupererà definitivamente tutta la rosa ci saranno delle scelte da fare perché abbiamo detto Allegri voleva giocare col 4-3-3 nell'idea della costruzione della Juventus di quest'estate però quasi sempre fino adesso ha giocato con il 4-4-2 storto e poi quando si è passato alla difesa 3 si è fatto il 3-5-2 oppure il 3-4-1-2 e comunque c'è un sistema di centrocampo differente certo Allegri cambia molto in base alle caratteristiche degli avversari l'ha ribadito anche nell'ultima conferenza stampa però lo stesso Allegri dice si tratta di mettere i giocatori nelle migliori condizioni possibili per esprimere il loro talento in base alle loro caratteristiche e allora ti dico Pogba in una mediana 3 e quindi Vlaovic e Milik se giochi col 4-3-3 insieme non li avrai mai quindi uno dei due diventa riserva e forse lo diventerà Milik proprio per il discorso che facevamo prima magari anche solo un discorso le preparazioni oltre al suo livello che è top eccellente fino adesso forse uno dei migliori dell'agriventus in assoluto però magari quando calerà a livello fisico e magari calerà già adesso prevede questo affaticamento verrà messo in secondo piano e diventerà davvero il vice Vlaovic di cui si era parlato fino adesso quando tornerà Chiesa Costice e Chiesa saranno i due esterni a sinistra così come Quadrado e Di Maria magari saranno a destra e allora Moise Ken cosa diventa il settimo giocatore offensivo in tutto il discorso può essere perché comunque anche lui fino adesso non è stato ancora in grado di dimostrare niente l'altro giorno mi è dispiaciuto in tanti non hanno apprezzato la mia bocciatura Moise Ken dicendomi che comunque ha fatto una buona partita col Toro a me non è piaciuto nel complesso Moise Ken però tanti l'avete visto bene quindi probabilmente è anche una mia idea però a me non è piaciuto non mi ha dato niente non mi ha trasmesso niente nella partita c'è stato veramente poco secondo me di Moise Ken che culmina con quel macro erroraccio qui tira fuori la palla a 5 metri dopo che Kostic aveva messo un buon pallone poi se vogliamo parlare anche di Kostic Kostic ha dimostrato che probabilmente nel 4-3-3 fa fatica a fare l'esterno offensivo ci ha fatto vedere che invece un pelo più indietro è più efficace riesce a dire la sua maggiormente e quindi Kostic può essere quel giocatore che fa quel passo indietro non da terzino perché anche Allegri ce l'ha già detto e quindi magari nel 3-4-X che può essere 1-2 o 5-2 non lo so può essere ma allora vuol dire che andiamo verso la difesa 3 quando lo stesso Allegri ha detto che la Juventus è stata costruita per giocare a 4 non ne ho idea ma anche adesso banalmente non ci sarà Pogba è vero però è parede se Locatelli allora perché non si fa quel passo in avanti dall'uscire dal discorso di difendere con le due linee a 4 e quindi McCenni che si sposta sulla fascia opposta rispetto a se gioca Kostic quindi McCenni a destra se gioca Quadrado quindi McCenni a sinistra perché ti può coprire quella porzione di campo perché rimaniamo ancorati a questa volontà di difendere per forza di cose con le due linee a 4 anche quando si potrebbe difendere in una maniera diversa come è accaduto l'anno scorso quando la Juventus acquista Vlaovic e mette Di Bale e Morata nel tridente lasciandogli alti per cercare le ripartenze e guarda caso sono anche le partite che l'anno scorso la Juventus ha fatto nel migliore dei modi perché era meno castrata da questa fase difensiva così come quando tornerà Chiesa cioè vedete quante cose stiamo dicendo ogni calciatore si trova più a suo agio in una determinata situazione che però va in contrasto totale con quelle che sono state le volontà della Juventus le indicazioni le istruzioni della Juventus fino a questo momento perché Chiesa dove lo metti? io ieri vi parlavo di Chiesa Punta anche qui qualcuno ha detto no Chiesa Punta ma non è una mia idea cioè Allegra ha detto più volte Chiesa lo vede lì l'anno scorso l'ha fatto giocare lì la partita che poteva magari buttare un po' di fumo negli occhi di Chiesa Punta è stata quella col Chelsea dove vinciamo 1-0 in casa nostra con Bernardeschi trequartista seconda punta dietro Chiesa prima punta e la vinciamo 1-0 con gol di Chiesa su assist di Bernardeschi Chelsea campione ed Europa in carica cioè però anche secondo me non è quello il futuro di Chiesa secondo me Chiesa si trova molto bene sugli esterni in un 4-3-3 che possa essere a destra e a sinistra compirlo ha fatto anche un ruolo ibrido in un centrocampo a 5 quasi ma con licenza di uccidere di andare in avanti e infatti ha fatto 10 gol 10 assist tipo una roba del genere quella stagione Chiesa è un giocatore molto importante però bisogna stare attenti a capire come tornerà verosimilmente in questo momento magari giocherà più Kostic di Chiesa anche con Chiesa reintegrato recuperato proprio perché la volontà di dargli la possibilità di recuperare pian piano ed essere pronto per gennaio quando inizierà il vero e proprio girone di ritorno maxi girone di ritorno giga girone di ritorno dove non posso nemmeno dirvi la Juventus si giocherà le sue carte perché a gennaio sapremo già se saremo in Europa League o eliminati da ogni coppa europea perché mancano due partite la prossima è il 25 quindi tra una settimana col Benfica e io oggi pensare che tra sette giorni andremo a giocare in Portogallo a Lisbona nello stadio del Benfica il Dota mi pare di sì non vorrei dire una follia potrei essermi sbagliato perché non sono molto esperto di calcio lusitano però faccio un po' fatica a pensare di uscirne non con le ossa rotte se poi aggiungo che tra un po' c'è anche l'Inter che è vero che è in una situazione molto difficile l'Inter è molto vicino a noi anche in classifica però comunque quando guardi le partite secondo me la Juve e l'Inter ti danno comunque una sensazione differente perché la sensazione che mi hanno dato le partite fino ad oggi sono tante di una squadra che non ha ancora capito chi è e che cosa vuole fare fa poche cose e le fa male in ogni fase di possesso non possesso e transizione e tra i macro fasi del calcio la Juventus non ne fa nemmeno una fatta bene ne fa tre in modo confuso e quando riesce a trovare dall'altra parte una squadra non in giornata o comunque non all'altezza a livello tecnico dei valori individuali di questi giocatori che abbiamo noi in rosa o che anche loro magari sono nella giornata di confusione allora ecco che la vittoria la porti a casa e magari una vittoria anche compatta pulita se vogliamo meritata come l'ultima col toro dove se la metti semplicemente sotto il piano statistico io ho tirato x volte il toro ha tirato x volte y volte hai meritato le occasioni sono state tutte tue però io già il derby col toro faccio fatica a considerarlo una gran vittoria per me è una vittoria che ci voleva difficilissima perché quando in un momento del genere arriva una vittoria nel derby a Torino contro il toro te la prendi e sei contento per forza di cose però la sensazione che poi mi lascia quella partita non è eccezionale e se ragiono sui recuperi di tutti e ragiono su questi due mesi qua e mi provo a immaginare una Juventus che vada a valorizzare al massimo le caratteristiche di questi calciatori sono sincero faccio fatica faccio fatica perché non riesco a capire nel modulo perché per forza di cose qualcuno rimarrà fuori ed è per quello che vi dico quando mi si dice che questa Juve non è forte è costruita male sì sono d'accordo siccome manca un terzino sinistro siccome manca un esterno ancora offensivo di un certo livello è probabilmente un centrale di difesa di un certo livello però se penso dalla cintola in su quindi dal centrocampo che mi sembra anche ben affollato abbastanza e davanti dove c'è della qualità e anche della quantità ripeto magari manca un esterno con certe caratteristiche perché non saltiamo mai l'uomo ragazzi non saltiamo mai l'uomo e quindi spero davvero in chiesa di maria perché a livello di dribbling siamo scarsissimi e lo stesso Pogba che qualcosa ti può dare però qual è il vestito giusto per questa Juve ma soprattutto quali sono i compiti giusti per questa Juve perché la risposta che vi do io è teniamo tre attaccanti su giocatori un po' più in alto a giocarsi gli uno contro uno sulle ripartenze e cerchiamo invece di palleggiare quando abbia la possibilità perché siamo comunque una squadra ripalleggiatore una squadra tecnica però che deve sfruttare anche la possibilità di trovarsi questi spazi quando non ci arrivi col palleggio perché noi su azione non facciamo gol cioè noi quali gol facciamo infatti vorrei fare anche un'analisi dei gol che abbiamo fatto fino adesso calcio piazzato intuizioni individuali quindi magari le punizioni di Vlaovic e su azione veramente poca roba quindi cerchiamo di ragionare anche quando pensiamo a sì tornano questi giocatori certo tornano però dove li mettiamo perché se l'idea era X quello che abbiamo fatto è Y è quello che faremo forse Z allora quando si è immaginato questa Juventus probabilmente si dovevano fare altri tipi di ragionamento ma questo lo sanno solo internamente sono curiosissimo di vedere Massimiliano Allegri dove vorrà andare a parare e qual era quella vera definizione di Juventus Reale che io fino adesso posso immaginare ma non comprendere fino in fondo finché poi non la vedrò con i miei occhi fatemi sapere la formazione ideale secondo voi qui sotto nei commenti tenendo conto di ogni singolo giocatore delle caratteristiche e di dove va a dare il meglio di sé perché non ha senso andare a castrare le caratteristiche dei giocatori perché sennò poi rischi poi di fare una brutta figura di far venire fuori qualcosa di mezzo e mezzo un po' come la Juve fino adesso che non va a soddisfare veramente nessuno che non va a soddisfare grazie a tutti